Eccoci qui al nostro campeggio la solita passeggiatina pomeridiana sono le 7 di sera ci facciamo una bella passeggiatina io e la mattina eh si proprio bello poi il lunedì è spinta non c'è nessuno si c'è gente eh anzi tutti i vacanzieri però è molto più vivibile di quando non è la domenica sicuramente voilà facciamo un bel girettino poi dobbiamo andare al bazar a vedere se ci danno sta bombola perché sono due giorni senza bombola del gas ci ho mangiato la mozzarella, pomodoro cetrioli pagioli tutto arrobescato in poche parole obla e questa sera andrò a mangiare al ristorante eh si perché basta cose in scatole basta oh quanti dossi quanti dossi che ci sono ogni scato degli dossi uno due tre quattro cinque sei oh sette voilà qui è il e il reparto dove giocano a capice a capice wow posso andare a vedere dove ero l'altra volta wow c'è sempre una rullotta bella fantastica la hobby e viene tutti gli anni eccolo qua che figata che figata che figata due cagnolini tre maschi di femmine d'accordo due maschi per vedere questo è un reparto nuovo via delle cardeni cardeni vai qua è proprio bello questo è un peggio davvero bisogna dirlo così è proprio bello poi hanno fatto tante cose hanno aggiunto tantissime cose all'area dei cani hanno rifatto l'area giochi come la vita nuova hanno allargato i parcheggi e ecco una cosa non cambia anche la piscina però vabbè la piscina c'era bella di per sé addosso voilà vi faccio vedere la piscina c'è un monto di gente e poi hanno allungato l'orario alle otto c'è una piscina questa all'ultimo alle otto questo qui c'è cos'è una scorciatoria ecco da loro facciamo 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 Grazie a tutti.